Intervenire sul cambiamento climatico con azioni concrete, riducendo le emissioni e maturando una coscienza collettiva su una realtà ormai assodata. È l'invito di Raffaele Cattaneo, sulle scie dell'emergenza maltempo, che da assessore all'ambiente prima e da sottosegretario regionale oggi, invita le istituzioni a trovare il giusto equilibrio tra una sostenibilità da invocare e un programma da attuare. Credo che sia giusto chiedere di piantare più alberi e di avere più attenzione al verde, che è una delle misure più semplici e più efficaci per contrastare i cambiamenti climatici, che sono la causa dei fenomeni che stiamo vedendo. E al tempo stesso gli alberi vanno mantenuti, tenuti in sicurezza, per evitare che poi succeda quello che abbiamo visto capitare in questi giorni. Dopodiché il tema vero è perché questo accade. E questo accade perché sono in corso fenomeni di cambiamento del clima che hanno bisogno di interventi strutturali fatti anche col contributo di ognuno di noi. Continuare a pensare che questo problema non ci riguarda vuol dire condannarci a ritenere che quello che vediamo quest'anno sarà meno peggio di quello che vedremo l'anno prossimo e negli anni a venire. E se non ci mettiamo tutti in testa che bisogna adattarci ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni climalteranti, noi non riusciremo a evitare che questi fenomeni si ripetano in futuro.